Ancora grazie L'associazione Salam, mi hanno regalato anche la maglietta, c'è il gagliardetto del Talzano, l'associazione è quella che si occupa dei ragazzi, ci piacerà raccontare una di queste sere, insieme a loro questa storia che sa di gol, di inclusione, di vita insieme e soprattutto di gol che sono fatti di vita, di pace, di vita bella finalmente per questi ragazzi arrivati da lontano. Viva il Talzano Africa United, viva l'integrazione in Europa, nel mondo e il calcio lo può fare anche, musica maestro, grazie ragazzi, viva il Talzano Africa United, vanno a vedere la troppa, bravo!